Ciao a tutti, vediamo in questo video 5 tipi di persone che attraggono i narcisisti. Allora, in questo video voglio parlarti di 5 tipologie di persone, 5 tipi di persone che per loro conformazione mentale, diciamo così, tendono ad attrarre i narcisisti. Quindi se appartieni a questa categoria, a queste categorie, cerca di prestare più attenzione perché potresti, diciamo, essere predisposta o predisposto ad attrarre dei narcisisti. Quindi è importante, quindi sarebbe importante quindi difendersi, sarebbe importante quindi cercare di mettere in atto di non coinvolgersi eccessivamente. Quali sono queste 5 tipologie di persone? Beh, vediamolo, prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti anche al, cioè abbonati anche al canale se vuoi ottenere delle risposte precise alle tue domande. Abbonarsi è semplice, basta andare nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e se non lo vedi con l'app del cellulare vai con il computer. E veniamo a 5 tipi di persone che attraggono i narcisisti. Allora, la prima tipologia sono le persone empatiche, cioè le persone che tendono ad essere empatiche, cioè entrare in connessione anche profonda con gli altri. Quindi le persone empatiche attraggono, tendono ad attrarre naturalmente i narcisisti, non perché siano, diciamo, persone disponibili, ma perché entrano in sintonia con gli altri. Quindi non si rendono conto, cioè subito chiedono a che fare con un narcisista. Guardano soprattutto se questa persona soffre, se questa persona ha qualche problematica, per cui si agganciano. Quindi non bisogna non essere empatici, ma tieni conto che se sei empatico, se ti metti nei panni degli altri, se vivi le emozioni che vivono gli altri, beh, è probabile che i narcisisti siano attratti da te. Siano attratti da te perché ti vedono come una persona alla quale possono succhiare energie. Perché poi il narcisista si aggancia proprio perché vuole succhiare energie. Quindi quando incontra una persona empatica, istintivamente, senza neanche pensarci, cioè non è che fa un ragionamento cosciente, sono i suoi meccanismi, i suoi sistemi che lo spingono, diciamo così, verso questa persona e coinvolge, e cerca di coinvolgere questa persona. Un'altra tipologia di persone che attrae i narcisisti, da cui sono attratti i narcisisti, sono le persone soccorretrici, cioè quelle, diciamo, che tendono, noi chiamiamo conflittuali madre, che avendo una conflittualità materna, tendono a dare agli altri e quindi tendono ad agganciarsi su persone. Anche lì il narcisista, quando intuisce che c'è la possibilità di prendere energie, che c'è la possibilità di togliere energie, beh, tende ad agganciarsi, tende ad agganciarsi e tende a cercare di sedurla, quindi tieni presente che se tu hai vissuto un conflitto con tua madre, se sei una persona che istintivamente, tendenzialmente tende a coinvolgersi su chi è, diciamo, su chi ha qualche problema, su chi è un po' problematico, tieni presente che tenderai ad attrarre persone narcisiste, cioè le persone narcisiste, inizieranno in qualche modo ad avere un coinvolgimento nei tuoi confronti. Questo è per quanto riguarda i narcisisti e poi ci sono altre categorie di persone che, diciamo, che attraggono i narcisisti che sono le persone che sono molto positive, che sono talvolta eccessivamente positive, che vedono sempre il bello delle cose. Il narcisista è attratto da questo qua, soprattutto il narcisista maligno, il narcisista perverso, per una forma di invidia, perché siccome lui non riesce a vedere tutti questi aspetti positivi negli altri, quando vede una persona che è molto positiva, cerca di fare di tutto, ma letteralmente fare di tutto per, tra virgolette, rovinargli la vita. Quindi spesso il narcisista, da questo punto di vista, è spinto dall'invidia, è spinto dalla rabbia. Il narcisista perverso, soprattutto, e il narcisista maligno, che sono quelli che vogliono distruggere, quando incontrano una persona positiva, che allegra, positiva, che vede la vita positivamente, e hanno questo obiettivo inconscio, peraltro inconsapevole, però di rovinargli la vita, di distruggergli la vita. Quindi bisogna stare attenti anche da questo punto di vista, perché rischi di attirare veramente persone molto negative. E poi una quarta tipologia di persone che attraggono i narcisisti sono le persone che non sanno dire di no, le persone che perdonano sempre, le persone che giustificano eccessivamente il torto subito dagli altri. Cioè, chi tende a giustificare eccessivamente il torto che gli altri possono fare, che ti possono fare, giustifichi troppo, e quindi attrae i narcisisti, perché, diciamo, il narcisista te ne farà di cotte e di crude, e se tu tendi a perdonare eccessivamente, tendi a giustificare, lo salverai sempre. Quindi anche in questo caso. Questo si sviluppa, si manifesta quando ci sono persone che hanno una parte emotiva che tende ad essere prevalente sulla parte logica. Cioè, sono le persone che dicono di sì, anche se vorrebbero dire di no. Ecco, queste sono le vittime predestinate, diciamo così, dai narcisisti, che non vedono l'ora di, diciamo, di rovinarti la vita fondamentalmente. Poi alla fine, quello che vanno a fare i narcisisti è proprio quello di rovinarti la vita, di distruggerti la vita in tutte le maniere, insomma, da questo punto di vista. E poi c'è una quinta categoria di persone che attrae molti narcisisti, che sono persone che hanno avuto genitori narcisisti. Quindi hanno avuto un imprinting sul narcisismo. È evidente che in questo caso, questa tipologia di persone, proprio perché ha avuto un imprinting sul narcisismo, su persone narcisiste, tenderà di sua iniziativa spontaneamente a riconoscere, diciamo così, nel modello narcisista il modello della sua vita, un modello importante. Per cui, purtroppo o per fortuna, si aggancerà proprio su questo modello narcisistico. E questo farà sì che entrerà comunque in stato di sofferenza, anche in stato di sofferenza molto marcato, in stato di sofferenza molto, molto forte. Purtroppo capita spesso che si verifichino situazioni di questo genere. Bisogna, è importante riuscire a superare queste situazioni e se hai avuto figli, se hai avuto persone che sono state figlie, tra virgolette, di narcisisti, persone che hanno avuto, cioè se sei avuto di genitori narcisisti, cerca di evitare il più possibile di, diciamo, interagire con narcisisti e riconosci nel modello paterno e materno che hai avuto del genitore narcisista una situazione negativa. Cerca di avere questa consapevolezza perché altrimenti finirai proprio per attirare questo tipo di persone che invece vorreste evitare. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale è disponibile la sezione abbonamenti. Se ti abbonerai potrai ricevere delle risposte precise mirate alle tue domande. Ciao a tutti! Ti ricordo che abbonarsi è facile. Basta andare nella home page sul tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi dall'app del cellulare vai con il computer. Per questo video è tutto di nuovo. Ciao! Ciao! Ciao!